il contagiari segnerà meno 23 la prima campana suonerà invece a meno 20 e la prima eliminazione diciamo lì torte l'amico luci davanti a cantare l'arriano siamo giocati per i miei pali e quindi tutti Cucci si lotta per le posizioni. Nelle prime 4 o 5 piazze, anche se tra poco bisognerà concentrati sulla parte finale, sulla coda del gruppo, e infatti suona la campana. E l'eliminazione al passaggio. 322, 3-2-2, fermarsi. 322, fermarsi. E ora si andrà avanti, senza soluzione di continuità. Campana, eliminazione, campana, eliminazione, campana, eliminazione. Prima munizione per il numero 2. Sono partite in 24 e arrivano in 14. Anzi, arrivano in più, ma le prime 14. 384, 3-8-4. Babilani deve abbandonare la tensione quando suona la campana. Siria all'esterno, la rivediamo in testa al gruppo. Sicuramente favorita, una delle candidate alla finale. Sponui. L'eliminazione. 117. 1-1-7, fermarsi. 1-1-7, fermarsi. Ma noi ci siamo già punti, per il suono della campana. Viene ammonito il numero 210 e il numero 318. Messe al bandone e poi stia via quando sarà eliminazione di meno 13. Ammonizione per il numero 471. Eliminata la numero 46 per fallo. La posizione che è portata al comando numero 406. Eliminazione a passaggio. Eliminazione di meno 11. 471 eliminata. 471 fermarsi. Ancora Drita abbandona il bianco generale solo quando suona già la campana. E'ень avanza Grava neutralizzata, grava neutralizzata, mantenete le posizioni, stop scaring, mantenete le posizioni, fermiamo perché c'è una rottura di un polso, la gara si ferma, non è neutralizzata ma la gara avviene in questo momento, quindi potete fermarvi, potete fermarvi, vi saranno ripartiti. Meno 9 al passaggio. Andiamo a meno 9 quando in questo momento Alice Galimera, perché l'anti Siria, abbiamo un fico, poi Alice Galimera, in altre posizioni, solo 3 aziende e non eliminate, a suo punto diventa tosta anche questa gara dopo l'incidente. Il settimo al passaggio, mancavano 8 giri e la prima campana, su ne va, a meno 6. Sì, avanti, 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 ancora giovane, già molto esperto. Campana al passaggio. Per via esterne. Suona la campana, su ne va, la campana adesso. Al passaggio sarà la prima delle ultime eliminazioni. Eliminazione al passaggio, eliminazione, eliminazione. E qui la tensione viene portata sulla coda del gruppo. L'ultimo. Per via esterne, in controllo del furo intenzione alla campana, il passaggio sarà la penultima eliminazione. Eliminazione al passaggio, eliminazione, eliminazione. 310 eliminata, 310, 3-1-0 Alessia, franzone, 310, grazie Passaggio, Scamparavi, meno 2 La numero 2 viene eliminata per taglio del percorso, la numero 2 deve fermarsi Aspetta numero 2, Properti, fermarsi Aspetta numero 2, Properti, fermarsi, grazie Rebecca, grazie, taglio di percorso, salta l'eliminazione Quindi salta l'eliminazione, suonata la campana Che è nell'ultimo giro A questo punto lo viene d'arrivo Tiriamo il dico che va subito a restabilire le giro Tutte le atlete che hanno terminato la gara vanno in finale Complimenti ragazze, è stata dura